Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di coronavirus, ma non per quello che se ne sente parlare o per cui tutti ne parlano, cioè proprio il discorso della malattia in sé, di quello che è la discriminazione verso i cinesi. Tutto questo non ne voglio parlare io, non è un argomento a cui io sono idoneo parlarne, ma è un altro discorso comunque sempre inerente al coronavirus. Vi ricordate che nel mese di febbraio la Zero Zero Robotics avrebbe dovuto rilasciare il Vicopter Falcon, questo drone con solo due bracci, con un'autonomia di 50 minuti, prenotabile dal sito della Zero Zero Robotics appunto e ovviamente io l'avevo prenotato, quando era poi anche con il prezzo un po' più basso, cioè proprio all'inizio della prenotazione, con una cappara di 100 euro, poi nel mese di febbraio avrebbe dovuto fare le spedizioni e a quel punto si sarebbe saldato la restante cifra. Ma oggi mi è arrivata un'email, la Zero Zero Robotics che appunto parla del coronavirus e l'email è questa. Sostanzialmente dice che c'è stato un problema causato dal coronavirus, ovviamente, o meglio il coronavirus sta causando tantissimi problemi in Cina, è appunto che tutte le attività sono state chiuse fino al 9 di febbraio, non sanno però se dal 9 di febbraio in poi le attività saranno riaperte o se sarà diciamo prolungata questa data di chiusura, che ovviamente tutti i loro collaboratori e via dicendo le aziende a cui si appoggiano ovviamente sono chiuse, hanno fatto ritardi nella produzione, tutto questo comporta che il Vicopter avrà un ritardo nelle conseguenze, perché ovviamente la produzione si è rallentata. E un'altra email simile a questa mi è arrivata anche dalla Power Vision, cioè quell'azienda che produce i PowerX, cioè il drone che sto portando adesso ultimamente spesso sul canale, che questa azienda quando ha visto i miei video di recensione mi ha contattato e mi ha chiesto se volevo mandargli qualche feedback riguardante diciamo qualche miglioria da portare al firmware o all'applicazione. Ovviamente io ho dato qualche mio consiglio, mi hanno risposto dicendomi che cercheranno di implementare e correggere le cose che ho segnalato, che alcune cose le avevo già segnalate anche altre, dicendo che però cercheranno di fare tutto questo nel giro di una settimana, perché il coronavirus sta rallentando comunque il lavoro, nel senso che la gente in questo momento non sta lavorando, si lavora a singhiozzo, quindi diciamo sarebbe dovuto essere tutto più veloce, invece adesso c'è stato un rallentamento appunto dovuto al fatto che le attività sono chiuse. E questo è solo due esempi che mi sono capitati a me direttamente, quindi ho voluto segnalarvelo, uno perché comunque magari tanti aspettavano l'arrivo del vicopter a febbraio e vederlo sul mio canale o anche sul canale di altri, comunque in attesa di vedere come si sarebbe comportato questo drone un po' alternativo che ha solo due bracci e 50 minuti di autonomia, ma come vi stavo dicendo, come avete visto l'email avrà un ritardo. E questo appunto con questi miei due esempi era solo per far vedere cosa sta causando questo coronavirus, che non è solo tutto quello di cui si sente parlare nei giornali, giustamente la malattia in sé, il contagio, i morti, i malati, tutto questo è, tutta la discriminazione che si crea anche sui cinesi che stanno vivendo in Italia, che vivono d'Italia da sempre, cioè tutto questo che però non voglio parlarne io perché non mi sento la persona adatta nel farlo, ma proprio come qualsiasi prodotto ne potrà risentire, ma proprio qualsiasi nel senso paradossalmente anche un Mac tipo questo, un iPhone, faccio esempi di prodotti che uno magari non associa subito alla Cina, che però sono prodotti in Cina, o che hanno molti componenti prodotti in Cina, quindi voglio dire veramente tantissimi prodotti, se non quasi tutti, hanno comunque qualcosa di cinese all'interno, soprattutto nei prodotti elettronici ovviamente. E tutto questo si ripercuoterà sicuramente sui prezzi, sul diciamo mancate consegne, in questo caso del bicopter, ma chissà anche di quanti altri prodotti che magari rallentando la produzione, le scorte diminuiranno e vi dicendo, quindi tutto poi andrà a finire che i prezzi probabilmente lieviteranno, perché comunque quando c'è poco prodotto il prezzo ovviamente tende ad aumentare. Quindi ragazzi, sperando che questa situazione del coronavirus si risolvi presto, non solo per un discorso di bicopter, che anche se dovesse arrivare tra un mese anziché a febbraio a marzo, per dire va bene uguale, non è quello il problema, però proprio per quanto riguarda la situazione anche lavorativa in Cina. Comunque va a influenzare l'economia non solo della Cina, ma anche di tutti gli altri paesi, quindi un'economia dal punto di vista lavorativo e non solo, che comunque è veramente o diventerà sicuramente un problema importante se questa cosa del coronavirus dovesse continuare ancora per un po' di tempo, che comunque mi fa capire che questa situazione è molto più vasta che non solo la malattia, il contagio e la discriminazione. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale le mie esperienze per quanto riguarda le aziende persone che lavorano in Cina, che comunque hanno un rapporto diretto con il coronavirus, vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale TelegramOfferte se non l'avete ancora fatto e se va, ovviamente ragazzi iscrivetevi al canale YouTube non perdervi neanche un video, un buon recensione, testo tutorial, novità, ciao!